Professore, buonasera. Sono la madre di Roberto. Mio figlio mi ha detto che lei fuma in sua presenza e che tiene in casa videocassette pornografiche. Lei ci dovrebbe vergognare. Comunque, mio figlio da lei non ci metterà più piede, chiaro? Interrogazione delle storie di ieri? Ho fatto sega, mi sono sciarolato a Villa Panfili. Pischelle? Per apprezzare Pischelle, è un po' da proci. La logica mi sfugge. Non ha molta voglia di studiare, però è intelligente, spiritoso. Dovresti dirglielo? Che cosa? Che sono suo padre? Sei impazzita? Mi indirebbe a morte. Ma tu guarda sto stronzo! No, ripeti quello che hai detto. Ha detto stronzo e ti ridico pure io. No, Luca! Un po' ti ripetco, eh. Qua non ti pare, ti do pure un indirizzo. Chiede senza la padretta. Stronzo! Quello è il mio di indirizzo. Se Luca continua così, l'era bocciato. Questa scuola per lui è troppo impegnativa. E poi è inutile perché a 16 anni smette di studiare, quindi... Ma cosa fai? Il militare, lo spazzino, il cameriere. Il cameriere? Tu. Lei qui quanto guadagna al mese? È solo per fare un esempio al ragazzo con cui si stava parlando. Ma saranno gazzini, la magna del solito. Perché piangi, Patroclo? Bamboletta sembri. O quanto è del frocio? Anche Achille sa per questo, non ti svegnava. Achille era frocio. Un telefono squilla. Ma è Shallah. Non ha suonato la sveglia. Ma è Shallah. Av Net blockchain. No ha suonato la sveglia. Ora faccio il tuo ruota, quel ruota, il hai un ruota. Grazie.